Si è conclusa al CERT di Scampia a Napoli la giornata campana del Ministro della Famiglia, Alessandro Locatelli. L'esponente del Governo, poche ore prima che il suo partito, la Lega, presentasse la sfiducia al Premier Conte e al Senato, minando la stabilità già precaria dell'esecutivo, si è recata in visita al personale sanitario del Servizio per le Tossicodipendenze dell'ASL di Viale della Resistenza, assicurando tolleranza a zero nei confronti di ogni tipo di droga. Ad attenderla tante realtà impegnate sul territorio, contro le droghe, per le famiglie e contro la violenza sulle donne. Tra queste l'associazione La Forza delle Donne, fondata dall'imprenditrice napoletana Elisa Russo. Il nuovo ministro è qui, questo la dice già a lunga, no? Per anni abbiamo visto ministri chiusi nei palazzi senza scendere sui territori, quindi senza conoscere mai la realtà che viviamo noi invece che conosciamo queste zone. Ecco, ha scelto Scampia. Scampia è un territorio martorizzato, difficile, ma lei è qui, è qui con noi ad affrontare qualsiasi tema, tutte le battaglie inerente, chiaramente, a quelle che sono le sue competenze, famiglia e disabilità. Noi chiediamo innanzitutto di sostenerci, di sostenerci sempre perché da soli andiamo poco distante, noi vogliamo invece avere la forza del governo che abbiamo alle spalle e quindi di poter affrontare la battaglia insieme a noi. Prima di rientrare a Roma il ministro Locatelli, accompagnato dal parlamentare napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa, ha commentato così la crisi di governo e la possibilità, sempre più concreta, di elezioni in autunno. Sto lavorando tanto, veramente, e quindi penso che non si possa interrompere il proprio lavoro finché non ci saranno altre disposizioni. Credo che il ministro Salvini, nonché il segretario federale della Lega, stia facendo tutte le opportune considerazioni per fare la scelta giusta per il Paese. Lei un'opinione che non ce la dà? Questa è la mia opinione. Io credo che Matteo Salvini sia la persona giusta per dare l'orientamento giusto politico a questo Paese e spero anche per le prossime elezioni regionali in campagna.